Ci troviamo alla chiesa dei Cappuccini di Pesaro, probabilmente uno dei luoghi simbolo del sisma che ha colpito il nostro territorio il 9 novembre scorso, quando la prima forte scossa di magnitudo 5.7 sfregiò di fatto la statua della Madonnina dei Cappuccini che domina sopra il cavalca ferrovia. Non solo la statua però fu danneggiata, la stessa chiesa fu dichiarata inagibile e inaccessibile ai parrocchiani dopo che il sopraluogo dei Vigili del Fuoco giudicò pericolanti le guglie sovrastanti. Da quel momento in poi tutte le funzioni religiose si sono tenute nella palestra qui vicino alla chiesa, ma questo rituale potrebbe tornare nella sua casa, proprio da un momento simbolico come la messa della Vigilia di Natale, questo perché Matteo Mercolini, geometra dell'impresa Mercolini e Torelli, nonché parrocchiano dei Cappuccini, si è proprio mobilitato per restituire questa chiesa. Le gru della ditta De Angeli sono al lavoro insieme all'impresa proprio sulle guglie per restituire la chiesa appunto alla città. Siamo stati chiamati dalla parrocchia e grazie anche all'aiuto dell'ingegnere Filiaggi Riccardo abbiamo intrapreso tutta l'iter burocratico per riuscire a iniziare i lavori, che sono lavori di messa in sicurezza delle cinque guglie, che sono che i vigi del fuoco nel sopralluogo del giorno del terremoto hanno dichiarato pericolanti e quindi hanno chiuso la chiesa e quindi la messa e tutte le varie attività della parrocchia erano state spostate nella palestra. Io sono parrocchiano e tanti altri parrocchiani si sono messi in movimento con l'obiettivo comune di riuscire a riaprire la chiesa per la messa della vigilia di Natale, ovviamente per Natale e tutte le festività. Lavori complessi ma si conta di rispettare questa consegna del 24? Ci stiamo provando in tutti i modi perché è un intervento un po' particolare che ci richiede un po' di tempo, però facciamo i debiti scongiuri e speriamo di riuscirci in questi giorni e portare a termine il lavoro in questa settimana. E dunque la chiesa punta a essere restituita per la sera del 24 dicembre ai suoi parrocchiani, ci vorrà un po' più di tempo invece per rivedere al suo antico splendore la statua della Madonna dei Cappuccini, tempi diversi anche perché ci sono competenze diverse con il comune che assieme alla soprintendenza all'archeologia delle belle arti che si sta mobilitando per il ripristino di questa opera artistica.